Benvenuti in questo nuovo video, questo gioco diverso dal solito si chiama Hembrrrr, che sarebbe Ember, accorciato in Hembrrrr E siamo io e Fere, quest'oggi siamo dei bei pompieri che devono andare in giro a salvare la gente E ovviamente che deve fare? Lo sta facendo chiunque e tempo fa andavano un sacco di moda a questo genere di giochini e noi li adoravamo Però poi sono smessi di andare in moda, in questo momento questo è uno specifico, lo stanno portando tutti e ho detto Proviamo a farlo che se piace un po' di gente noi pompieri li facciamo volentieri, siamo bravi pompieri secondo me E quindi siamo qua a giocare, allora, prima missione, abbiamo fatto il tutorial, abbiamo capito come funziona Fere ha spaccato già tutto Non ho fatto niente Seleziona il mio kit, per te ho visto, stai buttando giù tutto, guarda, guarda, maledetta Hai selezionato? Sì, allora, dobbiamo ragionare la squadra, quindi immagino che semplicemente dobbiamo andare dove c'è la freccia blu Eh, esatto, ovviamente destino, ma questo è destino che ti devo dire, la freccia è proprio blu Ehiu, ce l'è la freccia blu? Poteva essere rossa, poteva essere gialla e invece è blu Eccoci qui Ok Allora, il nostro obiettivo è se siamo pompieri e dobbiamo salvare la gente dentro le case che stanno ovviamente prendendo fuoco Quindi scalette per andare in alto, bisogna staccare l'elettricità, fughe di gas, bisogna stare attenti a un sacco di cose I pompieri fanno un lavoro molto complicato che nella vita reale non avrei mai il coraggio di fare Quindi vi voglio bene, pompieri Per fortuna non sono tutti come te Ma siamo in un videogioco, infatti neanche tu avresti il coraggio, quindi non prenderemo di me Però io non dico queste cose Allora Ti diamo il benvenuto al tuo primo incendio domestico, assicurati di salvare perlomeno i clienti Il numero minimo diceva, ma dai ma che triste Eh lo so Stef Ma noi saliamo tutti Il problema è che si toglie, quindi non ho fatto in tempo a fine leggere, ne ho dedotto il finale Ok allora spegniamo le fiamme, prima cosa da fare Scusi signorina, io spero di averle fatto male Mi scusi Perché l'ho colpita E qui l'incendio L'hai lanciata? Ok sì, una è andata Ok In tutti i sensi Poi, allora, devi sapere che il nostro obiettivo è sin salvare la gente, ma anche farti soldi Quindi in giro trovi tipo cassette di tipo soldi Come si chiamano? Di cosa Stef? Eh come si chiamano Fere? Cosa vuol dire come si chiamano? Le hai viste solo tu? Eh Fere, se non lo sei tu non lo so io E a me lo chiedi? Io qui sto spegnendo l'incendio che tu non hai spento Stef, sei andato dritto Perché guarda che il tuo obiettivo non è spegnere Eh sì, è anche spegnere l'incendio Uh, c'è l'elettricità qui Stef Allora Ok Fere non so fare nulla Tu non sai fare nulla, l'è attivata tua Guardate, così faccio andare la fuga di gas e acchiappa anche questa persona qua Fere, quante persone hai salvato? Zero, io sto spegnendo gli incendi Ecco, capite E tu non lo stai facendo però c'è la casa Preccia blu Si sta un po' addormentando il cliente Ma quello che ho un braccio? Ah, era addormentato Ora sì Allora, c'è anche questo, come si usa la scala con quattro? Quindi faccio così Qua possiamo rompere la porta Sì, ma si calmi signore Stef? Eh? Ho aperto una porta ed esplosa Aiutami No Vieni qui No Non posso No, prendo Allora, Stef Clienti salvati, dimmi Ci sono tante tante cose brutte Forse questo devo staccare? No, così lo accendo Devo trovare l'interruttore di questa stanza Eh Forse da qui? Dall'altra porta? È crollato un pavimento, bene Sì, è esploso tutto Qui è un bagno Però qua, secondo me si può rompere Vai Guarda Sì, lo stiamo rompendo Perfetto Ah, perché poi passi da qui Esatto Fai tutto il giro A posto No, Fede, in realtà no Sì, spegni da lì, Stef No, da lì non puoi Si spegne da lì Ah Ah, che male Vabbè, ma non ci serve nulla a spegnere tutto Cioè tu non devi sistemare le case, Fede Cioè non sei Stef Io ho aperto la porta Pensando ci fosse qualcuno intrappolato Scusa, eh Hai appurato che non ce ne sono intrappolato Va bene così Ok Ok, prossimo obiettivo Dove andiamo? Qui Ah, ho staccato dietro il generatore Ottimo Bravo Ok Questa è una bella idea, eh Sono molto bravo Dobbiamo salire al piene di sopra, Fede Ok Come faccio però A salire in questo momento? Con la scala, magari Top E poi così Allora qua va tutto spento, mamma mia Vabbè, l'incendio sta peggiorando però Eh lo so Allora devi sapere che clienti minimi li abbiamo già salvati Ma io voglio far soldi Troviamo il modo di far soldi allora Allora, questo lo posso spaccare pian piano Stef, io non riesco a passare Qua è crollato il soffitto Aspetta, ok Riesco a far parkour E ho fatto la scala Comunque quelli li puoi rompere? Sì, e c'erano due, erano Si rompevano Eh, devi insistere Ok, eccoci Occhio Però ma che sta prendendo tutto fuoco E continua a riprendere fuoco Lo so Allora, in cucina c'è qualcuno? No Abbiamo anche il dispositivo, Stef Per vedere se ci sono delle persone da salvare Eccole, le vedo, le vedo Da questa parte, Stef Non l'hai sentita la mia battuta? No Peccato Cosa hai detto? Che ho fatto in cucina Non c'è nessuno Come a casa nostra Cosa c'entrava? Nel senso che nessuno cucina Eh, vabbè Ed è sempre buona Allora, gli ho visti da questa parte, Stef Esattamente verso questa direzione Hai usato il dispositivo, vero? Sì, il dispositivo Ma come facciamo? Dobbiamo saltare? Ciao No, secondo me bisogna fare così Buttami la scala, Stef No, butta la camera Usa la tua Ce l'hai anche tu Premi 4 Perché non sai far nulla nella tua vita? Ce l'ho fatta Dammi un motivo Perché mi potevi aiutare? E come la riprendi? Lo sai? Eh Ah, perfetto Ok, tutto chiaro Mi scusi No, sta bene, vero? Vada, vada Ce l'hai fatta? Sì, siamo a 5 Però ce ne sono altri Altri due Sì, qui Allora, qui devo spaccare tutto Vai, 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 vai Facca che così me ne esco Perché passare da sotto è davvero Ah, mi sono fatto male con le scatole Che mi sono coltate Ah, fai attenzione Si può uscire da qui? Dalla finestra? Ho trovato la cassaforte Ecco a cosa sta pensando Stef, mi spacchi anche i vetri, grazie Vai Sto pensando a derubare le case Ma dico io Allora, si dovrebbe far così Perché tu praticamente colleghi la corrente Poi accendi Fai effetto scossina Non ha funzionato Uh, Stef, è sotto un disastro Porca miseria No, Stef Eh? Non si può più entrare in casa Davvero? Sì Però manca una persona da salvare Eh, appunto, riesci a prenderla Però sotto è un disastro C'è talmente tanto fuoco Che non riesci più a entrare E la mia scala sta al pieno di sopra Ah, sicuramente non riesco a prendere la cassaforte Perché ho staccato la corrente Eh Buongiorno Buongiorno Sì, ho trovato l'ultimo Però dice Trova denaro bonus Che non abbiamo fatto Vabbè, Fere Salviamo la gente Ma non facciamo soldi Io sono molto deluso di me stesso L'importante è quello Ma, guarda L'importante è salvare Ho visto Stef volare No, era il tipo che ho salvato Ah, ho visto qualcuno a Stella lanciarsi Capito? Ok Sto bene Abbiamo fatto? Sì, abbiamo fatto Ok Raggiungi il veicolo Questo qua? Credo Sì Finito Sei minuti C'hai preso Valutazione è piena Sette su sette C'hai preso 619 dollari Top Shop Vediamo un pochino Il trampolino costa 300 Lo scatolone da due soldi Non saprei a cosa serve Asciuga capelli Irrigatore Asciuga capelli Attrezzatura Potrei prendermi la maschera da sub Casco di sicurezza Perché probabilmente prendi meno danno Mmm Io vedo un casco figo Casco da pompiere Vai Credo che siamo alla casa di Hello Neighbor Perché ho visto che c'è nel gioco Una casa che assomiglia a quella di Hello Neighbor Non so se è questa No, non è questa Questa è stramoderna Bellissima Bella Ma come? Questa casa che prende fuoco è uno spreco incredibile Eh, vabbè, può capitare Allora, vai Perfetto Ok Questa con la No, no, no Sette persone da salvare Questa volta voglio anche i soldi Vieni un attimo qui dentro Sì Questa cosa la devi vedere Ok Ah Aspetta, Ferre Guarda questa cosa No Su di lui non funziona Oh, porca No, Steph Porca miseria Eh L'hai accettato Penso di sì Aiuto Eh, lo so Può succedere Allora È un matto Fuoco, 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 fuoco Fuoco, fuoco No, comunque ce lo conta Quindi è vivo, Ferre Sta bene La situazione giù è terribile Aia Ma anche sopra, Steph È tutto incendiato Usa il dispositivo per vedere dove stanno le persone Eh, ma li ho viste correre come matti Eh, io fa spengo un po' Perché se no non fa Non fa camminare Ma questo è cos'era? Un ascensore, raga Buongiorno Qui dentro c'è qualcuno Allora, vi faccio vedere Sono qua Sono in questa stanza Li vedo, li vedo Però si è chiusa Per me Non capisco il motivo Ok Allora, togliti Divano Ferre? E sei morta? No, non sono morta io Ah Come hai fatto? L'ho lanciato Ed è morto Ok Ok Ferre, sei veramente indecente Il secondo l'ho salvato però Steph, pensavo di poter fare canestro Invece non l'ho fatto canestro E si è schiantato Ferre, ho trovato qualcosa che vale di più No, Steph Cos'è che vale di più? No, ma c'è la scheletrina a terra, Ferre Eh, è quello che ti dicevo Sei veramente una persona senza cuore È quello che ti dicevo Guarda quanto fuoco c'è sopra di nuovo Eccomi, sono qua con te Ricordi di ogni tanto riempire il getto d'acqua, eh No, l'ho mai fatto Eh, appunto Steph No, qua non c'è nessuno Aha Perché vedo tutta la stanza strana? Non lo so Ma c'è anche la casa sull'albero? No, è caduto il ponte No Ma qui non c'è nessuno Sto perdendo tempo Vabbè, però Aia Sto fisso cadendo No, qui c'è qualcuno Lo vedo col dispositivo Ma non capisco dove sta Però lo vedo in questa zona Ma non è nel bagno Niente, raga È troppo alta La gente è sulla casa sull'albero E non riesco a salvarla, Fere Devono lasciarla Quanto è il minimo questa volta? Eh, non lo so Però mi sembra che si è messi male Allora, il minimo è quattro E siamo a due Eh, appunto E sta bruciando tutto Fere, filiamo qua Io te lo dico Allora, uno l'ho appena preso Ok, vai Ok Ci concentriamo Però non è che io ne vedo uno Ma non riesco a raggiungerlo, Steph Ok Allora Ma me lo segna tipo sottoterra Continuo a vederlo sempre più in basso Forse sta al pieno di sotto Ecco, sì Al pieno di sotto Stai Quello tutto giù Qui dentro Vieni, amico Ti ho preso Ti ho preso Steph, l'ho preso L'hai preso? Sì, 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 sì Almeno il minimo è dispensabile Riusciamo a farlo Sì, ho anche preso qualcosa Che è un po' più importante Ecco fatto Ecco fatto Fere, guarda Dove sei? Che c'è l'idea? Steph Per favore Cioè io capisco i soldi però Allora, da qua dobbiamo andare Vieni, vieni, vieni Come la raggiungi? Ci siamo? E qui da qualche pa... Ah, è incastrato qua dietro Ecco perché non avevamo mai notato Eccolo Ah, lo porti tu? Sì Mi scusi per il getto d'acqua Ho capito che non li devo più lanciare E l'altro sta un piano ancora più in alto Ma mi è caduto? No, aiuto Vorrei staccare questa Aia Perfetto Guardate che eroe Sto prendendo la scossa pur di salvarli Dimmi, cara Ma è caduto ed era svenuto in terra Faremo io No, Steph Sto bene? Esci fuori? No, devo salvare l'ultimo Dove sta? Ti aiuto io Dove sta? Dimmi Ah, eccolo, signore Ma porca miseria Raga, è troppo, è troppo Aiuto Ma mi scusi Si deve calmare Se no non ce la facciamo Ok, l'ho fatto svinire Lo acchiavo Ok Allora, l'ho preso Devo soltanto Ah Non lanciarlo Mi raccomando Fede, non so come scendere Dimmi dove sei Sono al primo piano Eh, perché io non ho modo di vederti Se tu non mi dai indicazioni È pieno di fiamme Guarda col telefono, mi vedi? Ecco, ti vedo, ti vedo Ti sto aiutando a spegnere Vai, vai, vai Vai dritto Da qua? Da qui si esce, sì Scendi la scale, hai fatto Aia Steph? Stiamo bene È finita Ce l'abbiamo fatta Ok Io mi sono distrutto Ma anche io Io non ho più vita Dico io Porca miseria Mamma mia Porca miseria Ti ho accettato Nessuno è perfetto Commenti del cliente Vabbè, però Denaro bonus trovato Vabbè, guarda Due di non si sa quanti Sono stato bravo, lo so Esatto Abbiamo credito meno di prima Infatti non capisco perché È perché ne abbiamo perso uno Per colpa tua Ma vabbè È caduto È caduto In modo un po' particolare Per questo cadimento 1723 della rec Raga, comunque Ci fermiamo così Spero che questo giochino Vi sia piaciuto Veramente carino E particolare È molto molto divertente È stupidissimo Ma divertente proprio Per questo motivo Sotto come altri video Iscrivetevi al canale Capellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao